Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart in studio, Agnese e Fede li vediamo la situazione del traffico della mobilità in Toscana in questi minuti. Cominciamo dalla 1 dove troviamo code a tratti per traffico verso nord tra Calenzana e Pio 1 variante, Prudenza in Fipili dove troviamo materiali dispersi in carreggiata verso Livorno tra Santa Croce e Montopoli. Siamo al traffico ferroviario. A seguito della segnalazione di alerta del sistema di monitoraggio dei movimenti franosi la circolazione dei treni è sospesa anche quest'oggi 26 giugno tra Marradi e Faenza e è attivato un sistema di bus sostitutivi. Tutti i dettagli sulla app di Muoversi in Toscana sui nostri canali social e sul sito del gestore. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con la regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio. Grazie a tutti.